A Teramo, dopo l'ennesima aggressione, avvenute i danni di un agente di polizia penitenziaria, aggredito alle spalle da un detenuto italiano con analoghi precedenti nella sezione comuni del carcere riportando la frattura del setto nasale, il sindacato di polizia penitenziaria Sappe è tornato nuovamente a denunciare la drammatica situazione lavorativa nella casa circondariale di Castrogno, dove a fronte di una capienza di 270 posti i detenuti sono 430, situazione a cui si va ad aggiungere anche la mancanza di 70 agenti inorganico. Purtroppo era già stata annunciata da me qualche giorno prima di questo ennesimo episodio che c'erano grossi problemi di gestione dei detenuti, sia dovuto al sovraffollamento che ormai si tocchiamo quasi quotidianamente i 400 detenuti a fronte di una capienza di 270 e ahimè purtroppo abbiamo anche una riduzione del personale di un terzo, dovremmo essere circa 215 unità, ad oggi ne mancano 70. Questo fa sì che tanti servizi non possano essere programmati e il personale è costretto a fare doppi e tripli di lavoro e questa cascata comporta poi una serie di problematiche anche sui detenuti. Vedisi anche la manutenzione dell'istituto, purtroppo per mancanza anche di fondi e per altre mancanze di risorse non si riesce a far fronte a tutta una serie di manutenzione manutentiva dell'istituto, dalle televisioni agli arredi, al servizio dell'acqua potabile e così via. Una situazione molto delicata, entriamo nel caso avvenuto qualche giorno fa, un detenuto che comunque era già sotto la lente di ingrandimento, visto che non era nuovo a queste situazioni. Sì, purtroppo ci sono le linee guida del Dipartimento dove viene detto che i detenuti che si comportano male dovrebbero essere immediatamente trasferiti, purtroppo in questo caso il detenuto non è stato trasferito e questa è stata una ripicca di un detenuto nei confronti di un agente che qualche settimana fa l'aveva denunciato. La segreteria generale del sindacato SAP è da tempo in prima linea a sollecitare l'amministrazione e il governo a prendere delle soluzioni, purtroppo anche con il nuovo vertice di Basentini come capo del Dipartimento non sta dando i suoi frutti, purtroppo ogni giorno in ogni istituto italiano accadono simili casi.